Noi ti mangeremo le braccia, e poi le gambe, e poi ti staccheremo la faccia dalla tua testa a morsi. Sarai un coso senza braccia, senza gambe, senza faccia, che rotola per la strada, come un escremento al vento. Cosa? Come un escremento al vento. Cosa dovrebbe significare? Nessuno dice escremento al vento. Magari intendevi foglie al vento? No? Stai insinuando che non hai forse mai visto un escremento al vento? Non proprio. Non avrebbe molto senso. Certo, se una scimmia allo zoo decidesse di lanciare un suo escremento... Sì, ci siamo capiti. Sarai come l'escremento di una scimmia al vento. Ma nessuno parla così. Ok, allora proviamo dell'altro. Ti mangeremo le braccia, le gambe, bla bla bla, e nessuno troverà il tuo corpo finché i maiali concimeranno. Lo hai fatto ancora? Cosa? Stai rovinando tutti i denti. No, non è vero. Spiegaglielo anche tu. Sì, è bello. Ha ragione lui. Si dice fin quando i maiali non voleranno. Ma non stavamo capendo, perché tu non capisci le nostre frasi. Non è una chiesura a razzo? Davvero? Se tu vuoi correggerci di nuovo, non mordere un cavallo morto in bocca. Wow, io credo che sarebbe meglio se smettessimo di parlare. Sarei molto meno spaventato se tu... Oh, no, no, no. Hai aperto una lattina di Venom. Ora giaci su di esso. Ti prego, basta. La tua curiosità ha ucciso una torta. E l'ha mangiata. Ok, ne ho abbastanza. Uccidimi e basta. Ehi ragazzi! Ho saputo che il nuovo Spider-Man è morto ora. Quello pensate di sostituirlo. E questo significa che sono disponibile! Non ora, Spider-Man! Brucieremo quel ponte quando ci arriveremo. Intendi dire attraverseremo quel ponte quando ci arriveremo? No, intendiamo bruciarlo! Non è l' unconditional gratuito! Non è l' università! Ah!